Lei voleva una Calabria smarta, l'aveva definita, cioè voleva raccontare una Calabria che avesse la forza di convincere e di innamorare e io ho fatto questo racconto che è un racconto d'amore, un viaggio d'amore, cercando di seguire questa sua visione e di fatto poi facendola facilmente mia perché è stato un luogo che mi ha affascinato moltissimo anche per la sua varietà e la diversificazione del territorio e la mutevolezza proprio delle zone che attraversi semplicemente viaggiando.